benvenuti amico penguera sono srax e quest'altro video su what up mail batman x questo oggi dopo aver dato contro i scaven in... ecco... di sensualità ci abbiamo verso la scelta del cristallo o la spina finale dopo questo abbiamo spina frastalliata ed retic si chiude al fine la scelta finale e qua c'è color corno con i elfi oscuri mi stanno sulle pavle come sapete benissimo andiamo sulle schienze di cristallo ok, se dei россий si, mi stanno lascia direi possibili foscate ok, abbiamo la stia 2 stanno prendendo tre? si, tutti il 120, non c'è niente da ... si, tutti messi a posto Per caso non potevo prendere questa buissima arma, andiamo avanti, eccoci qua, un prete di, un prete di peste, ecco, mamma mia, vedremo delle belle, delle belle belle belle, spero non ci sono, a parte i canoni del Warp, qui si fanno fuori quasi l'intero esercito perchè le salfte bene sono strapotenti, non lo sapevamo noi stessi perchè abbiamo dato la campagna con i scaven, ok, con i caos, con Thor, puro sangue e Casquid, un ingegnere, che abbiamo visto anche, abbiamo visto anche il, il prete, il prete, ok, eccoci qua, oh, una macchina molto brava, abbiamo ruvito te vai con un napole destra è la sola certezza vi PM mi giallo andare inаб parano sonate per la brBU vai sul cervo Come va The citizen soldiers stand ready I'm waiting Make way for your betters Uuuuuh Fogge Go where I please Cosa farà Fogge la soccentia della manchina Bambi sono, non è molto pietra Cosa farà Non Come si può dare O si Non so se come Posso andare pure no? Qua non posso andare quindi Devo Vado Andiamo qua Ok qua si può Spero che riescano a nuotare Non morirmi subito Così Abbiamo Abbiamo le volanti qua Quello che Abbiamo le spie Fanno danno Sput danno modello 3 Fanno 6 danno credo Abbiamo anche Le guardie nere Che abbiamo preso l'altra volta Guide my blade Lord of murder Vediamo qua Pecci di tubo che non so Dove Entrano Mister The survivors of the vanguard Are here New information has been cleaned Oh Their blood shall flow Oh Guardia Oh my god Guardia nere Never have I met my match The enemy dares to strike against you No Oh E' un sacrificio per il Dio Dio morto Come è libero? E' piaciuto che noi possibili di servire, nobile mistra. La malattia mi porta a fuori. Ok, abbiamo salvato una sua prestita, ma non c'è nessuno per niente. Fai la mia peccata! Guardi la tata di carica! La tata di carica! Dove è il nostro? Ok... Dove è l'altro gruppo? Eccolo! 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 Ci stiamo lavorando sui reti! Eccolo! 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 Noi non sono stati morti! 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 Un po' di questa terra! Voi venuti per me! Un po' che sono stati morti! 9. 9 rapide sui nostri! Meglio 9 che... Meno! Ma dovete vi ricordo che siamo stati con due eroi e... eccoci che c'è qua! Mioi f***i! E qui ci fanno male, fanno male! Sei male fanno! Morire! F***i la mia morta! F***i! Non può essere fatto! Cosa è promosso? Più sacrifici per chiamare! Ok, andiamo avanti! Cosa possiamo passare? Oppure no? Sì, possiamo passare! Chi c'è qua? Salute? Oh, la toga! Eccolo! Ah, questo è fuori però! Una, sono tre... Sono due fuori! Non so, se vedete... Ok, andiamo avanti. L'ora, Joe! Ci sono tanti di un cospino! Qualcun che si entrava sbagliare, mio lorino! Ci sono tanti di un cospino! Ci sono tanti di un cospino! Qualcun che si entrava sbagliare, mio lorino! Il inimico patente ha stato scindato! Diamo le uccidere Qua sono? Ah, ecco, qua Sì, perfetto Perfetto Perfetto, mamma mia Sono un cavo da mare adesso Perfetto Pazzetti fatti, non c'è il mio potere Dai Brava, solo così Solo così, eh, così, questi vecini Dingo Ammazzano il tuo Il lato gre Per la gloria Dingo Questa terra è rile per la scuola Degu Mazziamoli No Sì, tu, bacci tu Questi sono miei Poi, bacci tu Poi, bacci tu Un'ordine? Non c'è il mio potere Non c'è il mio potere Dov'è il potere Non c'è il mio potere Vuole ammazzarlo Non c'è il mio potere 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 Chi è rimasto dietro? Stiamo in maniera No, non c'è il mio potere Ma in maniera Ma in maniera Ma in maniera Ma in maniera Non c'è il mio potere Ma in maniera Ma in maniera Ma in maniera Non c'è il mio potere Non c'è il mio potere Ammazziamoli tutti Per cortesia Allora Un accidente Qua Questa riesco a Ammazzale Dopo un bel po' Non riesco a Sarà l'ultima L'ultima unità Ma forse Non riesco a fare niente Ma iniziamoci Il Mr. Discovered Vediamo cosa succede Spero Il botto Va male Ma Sì 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 Ma Usa nato La La Croesia Sì Ma Sì Ma Mastro! Siamo alimentati i tuoi corpiti! Voi i tuoi guerri hanno sbagliato alla fine. Sì, ok, com'è? Loro ho studiato le arti oscuri! Nel prima di me! Il enemigo patente ha stato sbagliato! Ma la semente come faccio? Come sono morti quei altri? Ah, sono morti però! Eh, che cavolo! Oh, non si fanno fanno fanno... Mastro, siamo sbagliati! Lasciatelo arrivare! Non ci farà nulla! Mettiamo le nostre forze verso l'isola, vicino al cristal! È un buon lugar di affrontare questi vermini! Ok, primo po' Mastro! Ammazziamo il primo gruppo che arriva! Cosa? Scari? Ammazziamo il primo gruppo che arriva! Cosa? Ammazziamo il primo gruppo che arriva! Cosa? Cosa? Non è meglio qua! Altro gruppo! Non so, non so, perché... Quelle buon nome non... Pensavo che non è... Grazie è la mia informazione! Niente non può stoddare davanti a me! No! Il gruppo spara su questo! Moubazwan, Drukhai! Sui saldi la caccia di Nagaroth! Siediti davanti a me! Ok... 7 vabbiamo 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 Sì, ragazzi per farmi si chiede 1,2 Sì, ragazzi per farmi Prima di farmi Questa è il tuo porto. Questa è il tuo porto. Mi sento i venti di magica attraverso il mezzo. Il peggio che è stato scattato. La morte per gli assurri. Ti avrai una eternità di tormento. Loro ho chiesto di portare un ruino a questa terra. Non c'è morire, non c'è la morte. La morte per il azore! Il dirigeci a noi come ti voglio. Non è scoperto! Ok, ho capito di questo. Ho capito di questo. E' quello che ho desidero! Oh no! Oh no! Oh no! Allora! Ok! Dove l'altro? Oh no! Pa, Master, lo più complesso di sociolo! Vi combattiamo forti, forti! Muisto il bummer humano! Zuido sul castello! Più! Ci siamo più, questa qua! Non fiariamo il struschio di te e te puoi confiarlo, Master! Ammazzatevi, ammazzatelo. Facciano loro sentiremo! Il enemigo patente ha stato scelto. Io vorrei rilasciare questa terra, più sacrifici di nostri amici per Cain. Sì, oi amici. Ammazzatevi! Ammazzatevi! Ok, moca! Abbiamo! Si Ok Ok Cosa Bastardo questa parte Abbiamo avuto una nuova posizione! Quanto tempo ho studiato le nostre arti. Mi guido il mio proprio destino. Stai davanti a me! Noi nessuno potrà stare nella mia strada. Non riusciamo, amici. Mi ha studiato la più complessa di sorceri. Il mio amico è tutto potente! Ci sono i migliori combattenti! Hack Hack! Scusa davanti a me! Nessuno può stare davanti a me! Se il primo amico è stato incontrato! Nessuno può stare davanti a me! C'è il primo amico! Il primo amico è stato incontrato! Nessun amico è forte! Chiudere! 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 Ok, tu, però, ma uso qua. Ok, ecco qua. Usa per nessuno. Iniziamolo. Va morirmi. Perfetto. Ammazzate. Ammazzalo. Scaricate, bastarde. Ehm... C'è la vera però... C'è la vera però... Oh, finalmente. Oh... Non so più dove cacchillare adesso che è veramente stancato. Ora, prima di me! Allora... Questo fa tutto... Ehm... L'ultimo sono questi. Sì. Quindi... Cosa è? 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 Oh... Cosa è? Cosa è? Cosa è? Pazzesco. Poi... E l'ultimo si è? A me? Alessandro Leleith, ci siamo arrivati al chiamato ma molti macchine di guerra del vennio. Le potrebbero essere… problematiche. Poi che potrei riconoscere questo obstaccio, Alessandro? Se ti preoccupa, alessandro le ilveri, le frottome Bride di Cain, e sottolineo i correnti, di stradellosi di guerra che fanno il tuo esbordio. oooookay ok Ok, ritiriamoci che non facciamo la missione, devo anche recuperare un pochino di gente in qualche modo, buon, prima volta un altro video, allora, qui ci manca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 video, oh, perfetto, questo è un tablet qua, buon, bene con la guerra, spero che ci vediamo nel prossimo video, ci speriamo nel prossimo video, ok, scrivetevi, commentate, un piaccio su, e niente, ciao!